Abbiamo scelto due film, Contratempo e Split. Split, ansia totale. Niente, ci tenevo a fare questa storia perché sicuramente voi avete visto, tra virgolette, nascere la mia relazione quattro anni fa con Nicole. Sono passati questi giorni, avete chiesto tante cose, perché noi impostavamo foto insieme, perché vi avevate un distacco tra di noi. Giustamente, visto che voi avete comunque seguito la nostra storia, avete fatto per noi, avete comunque seguito tante cose belle della nostra relazione. È giusto che voi sappiate che oggi è finita con Nicole. Cioè abbiamo fatto questa scelta per il bene di tutti e due, perché eravamo arrivati un momento della coppia che penso che possa succedere a chiunque, nel senso che dovevamo capire veramente cosa volevamo della vita. e per capire questa cosa dovremmo assolutamente allontanarci. E niente, abbiamo fatto questa scelta. Spero che voi la capiate e la potete capire bene, nel senso prendere bene, non prenderla male assolutamente. e niente, vi mando un bacio e grazie ai mensaggi di sostegno.